Fabio Picchi, Anteprime 2011. La prima domanda, il suo libro preferito? In assoluto? Ma in assoluto l'ultimo letto. Io sono uno che entra dentro e mi innamoro. Quando arrivo alle ultime pagine soffro anche un po'. E qual è l'ultimo che ha letto? Beh, guarda, è un vecchio libro di fantascienza che ho messo poi nell'elenchino perché è una rilettura. L'avevo letto 30 anni fa da ragazza e è Il paradosso del passato di Silverberg. Per quale motivo è il preferito, a parte che è l'ultimo che ha letto? Ma perché intanto mi ha riportato a 30 anni fa quando per un periodo, anche abbastanza breve, per un annetto ho incrociato la grande fantascienza di Heismov, eccetera, eccetera, eccetera. E poi mi sono innamorato di due autori, uno era Farmer, Philip Farmer, l'altro era questo Robert Silverberg che scriveva delle robe fantastiche. E il suo personaggio letterario preferito? Non ho dubbi, Candido, che infatti è il primo libro. Come crea un suo libro? Mi metto a scrivere la mattina presto. Ma l'idea come nasce? L'idea c'è, è dentro il pezzo di marmo, poi si tratta di buttare via, di tagliare, di togliere, e quel che rimane è l'idea. Un passaggio in un libro che l'ha emozionata particolarmente? Migliaia, migliaia, migliaia. Una cosa che ha scritto una giovane autrice, Maria Cassi, è un testo teatrale che finisce con, non credo nemmeno sia un proverbio, è proprio un detto toscano, che però è assolutamente universale. e lei l'ha usato, infatti, in un ambito teatrale che poi ha fatto il giro del mondo. La morte ci ha trovato a vivi. Qualcosa sul libro che sta per uscire? Quello che sta per uscire, mi sono divertito come un matto e di regola, questo è il mio terzo libro, ho avuto un po' di difficoltà a rileggere i primi due con scritto. Tutte le volte che li ho riaperti, poi li ho dovuti anche richiudere. Questo non so perché, lo sto rileggendo con piacere, cioè mi diverto. Non so se è normale che uno se la canta e se la dice. È come quando uno sente la sua voce, di solito quando la senti registrata non ti piace, però se la seccanti bene è un bel pezzo, di solito piace. Sì, ma mi sono proprio divertito a scriverlo. È stato un po' un monopoli mischiato a Risico, mischiato a Topolino, mischiato alle tante cose che ho fatto nella mia vita, le più gradevoli. Il gioco con i figli, il cibo, la convivialità, i viaggi, tutto messo dentro un piccolo romanzo, no, troppo dire, un piccolo racconto di 120 pagine, 130 pagine, non so quante pagine. Quante pagine ha il mio libro, non lo so. Lo stampiamo più grande, così è più corposo. Lo facevamo a scuola, scrivere largo per favore. È vero, faccio sempre. L'ultima domanda, ha già detto un libro preferito e ne mancano quattro per fare la lista Donable. Può leggere. Sì, 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 no, no, ma ho messo Candido, non soltanto perché è il mio libro preferito, ma anche perché lo regalo a tutti i miei collaboratori. È un libro di grande formazione. Quando poi lo regali a qualcuno con cui lavori, questo qualcuno lo legge il libro e quindi poi te ne viene a parlare. Io ho una cinquantina di collaboratori intorno a me, quindi ho 50 racconti di Candido in più. E non è male, non è male, non è male fare la lettura collettiva dei libri. Ballone rampante, non riesco a liberarmene. Qualcosa che ti segna, viva Dio per il resto della tua vita. L'ho letto da ragazzo e continuo a leggerlo ogni tanto. Oste di seppia, ci ho fatto l'esame di maturità. E l'ho presi proprio come furbata per imbrogliare, per buttare fumo negli occhi a chi mi stava interrogando. E invece poi mi ha legato, mi ha legato alla poesia, a tutta la poesia in maniera infinita. Giusto appunto. Permettendomi così di affrontare tanti altri autori. Vabbè, insomma lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Le origini della donna. È il libro che ci salvava noi ragazzi degli anni 70, no? Quando frequentavi qualche femminista, tu avevi in casa le origini della donna ed eri uomo salvo. Però, vedi, a volte si mette in un libro, poi dopo lo si mette per un motivo, poi invece lo leggi. E vedere la storia da un altro punto di vista, meraviglioso. Vedere la storia dal punto di vista femminile, una goduria massima. Questo nei libri poi ti diverti. Nel mio libro c'è una pagina, sono molte pagine femminili. E questo mi entusiasma, è un cambiare improvviso che ti dà un'occasione meravigliosa di riflessione. E poi, paradosso del passato, appunto, questo libro di fantascienza è considerato qualcosa di minore, che invece è come vedere un violinista o tirare di scherma, no? Può essere una roba esteticamente, quando l'estetica poi si fa arte, si fa racconto, si fa impressione, emozione. E' un libro di fantascienza minuscolo, scomparso, me l'hanno anche rubato la mia unica copia, però io ce l'ho scritto qua perché è un libro molto semplice, non vi lo posso raccontare. E' un paradosso, il paradosso è il passato. Trovatelo, cercatelo. Cercatelo! Robert Silverberg. Grazie mille per essere stato con noi, davvero. Grazie a voi. Grazie a voi.